Sulla nostra regione ancora tempo in cambiamento in questi giorni, per questi prossimi giorni affluiranno delle correnti orientali che a tratti saranno ancora umide negli strati medio-bassi dell'atmosfera. Avremo pertanto al mattino di sabato un ceno in prevalenza nuvoloso su tutte le zone, poi della variabilità, quindi un lieve miglioramento su pianura e costa, resteranno nubi per lo più su tutta la giornata nella zona di Tarvigio dove sarà possibile anche qualche debole nevicata. Ancora Bora moderata sulla costa, temperature massime intorno ai 10 gradi. Per quanto riguarda la giornata di domenica, una certa nuvolosità sarà presente un po' su tutto il territorio, sempre più consistente nel Tarvisiano. Sulla zona montana, anche in Cadia, nelle zone più interne, saranno possibili delle deboli nevicate, già a partire dai 500 metri di quota. Temperature in calo, zero termico intorno ai 600-700 metri di quota e temperature un po' più basse anche su pianura e costa, con massime intorno ai 6 gradi. La giornata di lunedì vedrà bel tempo, freddo, in montagna sotto zero tutto il giorno, gelate anche in pianura, nuovo cambiamento in arrivo probabilmente per il mattino di martedì, con possibili nevicate anche a bassa quota, previsioni che andranno comunque aggiornate. Buon fine settimana a tutti!